Un compleanno importante è quello della Guardia di Finanza che festeggia anche a Taranto i 250 anni dalla Fondazione. Corpo Militare dello Stato, Polizia Economico-Finanziaria, Forza dell'Ordine, a tutela di cittadini e imprese. Il Comandante Provinciare, il Colonnello Massimiliano Tibollo. Oggi ricorre la cerimonia di celebrazione per il 250esimo anniversario di fondazione del Corpo. È un traguardo storico, straordinario. Oggi ci apriamo la città, ci apriamo la comunità, festeggiamo tutti insieme questa ricorrenza unica e comunichiamo i risultati delle nostre attività, confidando sempre di fare meglio per questo territorio, per i cittadini di questa provincia. Nel 2023, nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha eseguito nella provincia di Taranto oltre 10.700 interventi ispettivi e circa 2.200 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese, destinato a intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, la tutela della spesa pubblica, il contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria e le operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, questi capitoli del grande lavoro capillare in tutta la nostra provincia. Alle 19.30 la cerimonia solenne, in un sito dove fino a non moltissimi anni fa decollavano e atterravano gli elicotteri leggeri del corpo aeronavale delle Fiamme Gialle.